ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi siccome è già passato il periodo natalizio si inizia a pensare alla befana perciò faremo una super challenge ma prima iscrivetevi e mettete like così entrate a far parte del super tinciungati con le gommine le zampine le codine le orecchiette i baffetti iniziamo subito questa challenge si chiama non scegliere la calza sbagliata ci saranno quattro round e io dovrò appunto non scegliere la calza sbagliata in una ci sarà una cosa bella un giocattolo chissà chissà e in un'altra un'altra cosa il carbone siamo pronti a partire primo round perfetto scegliamo la calza non voglio scegliere quella sbagliata scelgo questa qua ok speriamo di aver scelto giusto apro si pronta sofì si vediamo cosa c'è dentro dai allora bella carta wow che cos'è sono le crybabies magic tears che belle ma sembra un biberon con dentro una bevanda strana rosa che belle ma sono le nuove crybabies sofì sono sono le crybabies magic tears tutti frutti guardate ragazzi ci sono tutti i frutti tutte le crybabies travestite da fruttini ci sono sofì 12 personaggi ispirati alla frutta tutti da collezionare la posso aprire adesso si adesso la apriamo ma sofì mi raccomando fai una mago mago magia perché c'è un super personaggio speciale raro che vi vorrei tantissimo vedere ok allora facciamo una super mago magia mago mago magia scarta scarta unboxa questa casetta tutti i frutti scartiamo che carino sopra sopra il becco ci sono tutta c'è tutta la frutta la fragolina la banana l'anguria l'ananas io sofì gli darei un'agnussatina intanto si oh mio dio ragazzi profuma tantissimo ha trovato da dove esce il profumo sofì ok è esploso nooo quando aprite dovete annusare e capire chi avete trovato profuma un sacco ti prego l'annusa ti prego è buonissimo allora dentro ci sono un sacco di bustine ecco qua la prima bustina apriamola subito però mi salvano i pubblici vediamo che accessori c'è dentro sofì perché in ogni tutti i frutti ci sono due accessori comuni e poi quattro personalizzati per ogni frutto c'è una ciotolina qui c'è già una novità una ciotolina forse per dare la pappa alla nostra cry babies magic tears oh oh ok allora mettiamola da parte e apriamo la prossima questa viola vediamo qua dentro wow è un ciuccio girandola il gira ciuccio ha trovato dove va sofì eccolo la gira ciuccio si adesso sofì andiamo a scoprire no quello dorato lasciamolo per ultimo andiamo a scoprire cosa c'è lì dentro dai si un sportellino due sportellini wow degli occhialetti a fragolina e poi il nostro biberon per farle bere ecco oh è caduto ma c'è il nostro ciuccetto ecco qua il nostro ciuccettino giriamo fuori wow c'è una una manina è un cucchiaino mi sa quello sofì è un cucchiaino a manina un cucchiaino a manina per girare la pappa poi prossimo casellino questo l'ho aperto quello la via una borgettina una borgettina rosina ultima casellina l'ultimo sportellino l'ultimo sportellino vediamo un super grandio nido adesso però dobbiamo aprire questa borgia si perchè la nostra cry babies è l'ultima eh la nostra cry babies magic tears un super fiocchetto tutto glitter rosso accessorio dorato sofì è bellissimo che bello si non resistiamo più apriamola apriamola e diamo il benvenuto a Ella che carina è bellissima bellissima ma guardate a tutti i semini come la fragolina e c'è anche il fiorellino di fragolina sulla testa c'è anche il fiorellino di fragolina sulla testa soffì ma io sento un profumo arrivare fin qua oh profuma profuma un sacco ok adesso le mettiamo tutti i suoi accessori partiamo dai super fiocchino eccolo qua perfetto poi gli mettiamo gli occhiali questo è il primo completo super carinissima poi gli arriviamo il fiocchino e anche gli occhiali e gli mettiamo questo adorabilissimo grembiolino così può preparare tutta la pappa del mondo prendi in mano Ella ecco è pronta a cucinare e vi volevo dire che in fondo alla casetta ci sono anche gli sticker per decorare tutta la casa adesso le diamo la pappa con il suo biberon magico e vediamo che lacrime piange secondo me saranno profumatissime di fragola sono curiosissima dai mi raccomando ricordatevi di riempire molto la vostra crybabies magic tears tutti frutti e adesso ci facciamo piangere guardate ragazzi mentre piange le sue lacrime sono gelatinose perciò una volta che sono cadute rimarranno gelatina guardate che carino profumano un sacco anche le lacrime poi sono super gelatinose lei è carnissima la mettiamo nella sua casetta e proseguiamo con la nostra challenge ok ragazzi iniziamo con queste due calze carina con il cagnolino il lupino quello che è però questo è più grande non è valido ehi adesso vi devi scegliere ne puoi scegliere soltanto una non sbirciare troppo io non lo so vado a casa scelgo questa questa azzurra spero che la scelgo bene ok vediamo che cosa c'è dentro allora wow 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 ehh carbone nooo carbone noooo carbone nooo carbone Passiamo al prossimo round A fine video o meno male? Prossimo round Dai, dai, dai Ok, perfetto Quale scelgo? Non sbirciare, guarda dritto Non sbircio, non sbircio Adesso, dai, mi fido di te Calza blu, scelgo questa Ma è molto leggera, mannaggia Avrò fatto la scelta giusta Vediamolo subito Scopriamolo Vediamo Una Crybabies Magic Tears Casette alate, che bello Voglio subito aprire Sofì, nella casetta alata, sai chi c'è dentro? Chi? Ci sono le 12 bamboline da collezione Con il pigiamino Scintillante Wow Allora ti ricordavi, eh? Sì Sofì, stavolta saremo fortunati Vedanta la sua casetta si capisce già un po' No, qui non dovete vedere Qui ci sono gli stickers che svelano tutto quanto E benvenuta a Dotti Inversione piccola Perché all'evento di Torino c'era la Dotti Grande, grande Ha dei capelli super glitterosissimi Adesso lei la mettiamo nella nostra super bellissima seggiolina Ecco qua, la nostra Dotti è accomodata Adesso apriamo tutte le caselline Un super stetoscopio per ascoltare il cuore E là è quel computer per fare le lastre Vediamo Il pavallino Eccolo qua Tutti gli accessori, Sofì, di questa serie Sono tutti glitterati Sì Sono carinissimi perché sono Ecco anche il ciuccio, vedi? È un po' traslucido e sono tutti glitterati Sì, il biberon ragazzi super perlato E adesso ci rimane soltanto No ragazzi, c'è dentro la lacrimuccia E vabbè, Sofì, ma non ci può essere sempre fortunati Eh no È bello delle sorprese Fortunatissimissimissimissimissimissim Guardate la lacrimuccia Boccatino In effetti queste casette sono perfette per stare dentro la cazza della Befana E siamo pronti per il prossimo round Dai dai che questa challenge della Befana mi sta piacendo un sacco È divertentissimo Continuiamo E siamo arrivati all'ultimo round Questa Ok La nostra calzetta Oppure una new entry Wow Il sacco di Babbo Natale Io non so veramente quale scegliere Però Andrei di sacco Dai Quindi Leviamo questa calza Mal in cuore Forse E apriamo il nostro sacco Vediamo Allora Abbiamo Ah vabbè Questo E poi Wow Sì Le Cry Babies Magic Tears Fantasy La casetta Ciucio Ma vi ricordate quante ne abbiamo aperte insieme l'anno scorso? Apri 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 Fati ti ricordi che nelle casette Ciucio ci sono sei personaggi diversi? Sì Ah Ce l'abbiamo fatta Vi ricordate come si aprono? Dobbiamo levare questa finestra e prendere la gocciolina e mettere le goccioline qui dentro Quindi Acquetta regia Abbiamo preso l'acquetta e adesso la mettiamo qua dentro E ce la mettiamo tutta quanta Ecco fatto E adesso Ah Wow Ok Vediamo adesso chi abbiamo trovato Qui si è già aspetto lo sportellino dove abbiamo il biberon super perlato E vediamo chi abbiamo qui Oh Ale Wow È Jessie È l'unicornetta Oh l'unicornina Guardate che meraviglia col suo pigiamino rosa Che carino Sofì C'ha una criniera tutta glitterata Guardate Ancora codina Adesso vediamo la checklist Allora di qua c'è la nostra Jessie Facela vedere Ecco la qua Ta taan Jessie e Kurni Il suo unicordino si chiama Kurni Ah sì E di là invece ci sono tutte e sei E in più c'è quella rara La tricerata Pa ti ricordi Sofì Sì Abbiamo provato a cercarla in tutti i modi Ok Adesso vi faccio vedere tutti gli accessori Abbiamo il biberon Abbiamo il brizzellino E il camille Cuccio che si era nascosto Adesso glielo mettiamo così non lo perdiamo di nuovo Ecco fatto Io sono anche super curiosa di vedere di che colore saranno le sue lacrime Dai andiamo a riempire il biberon Ok Adesso le diamo da bere con il suo biberon La mettiamo così Mettiamo bene il biberon La facciamo bere tutto quanto Povera no Tutte le sue lacrime azzurre Ma queste Sofì sono lacrime di felicità Vi ricordo che tutti gli episodi delle varie serie Delle Cry Babies Magic Tears Le potete trovare sul canale YouTube Key Tools Quindi potete vedere tutti gli episodi di tutte le serie Con cui vi amiamo di felicità E far avverare tutti quanti i sogni Io ringrazio tantissimo Yemish Toys Che ci ha fatto questa super collaborazione E spero tantissimo di avervi dato una buona idea per la Befana E ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete i like Iscrivetevi al canale YouTube Attivate la campanella Ding dong ding dong E ciao Alla prossima Ah e buona Befana se non ci vediamo Ciao 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 Ciao